La pittura è il quadro, uno fa il murale, vabbè, è un impianchino, non è una cosa... La cosa immediata percepita dagli abitanti del quartiere o dai passanti o dai visitatori occasionali è il fatto che invece di un muro grigio di cemento armato, più o meno squallido e più o meno rivestito di muschi e licheni cresciuti sulle infiltrazioni di acqua, ci sono dei muri colorati. Questa è la cosa più di base, proprio terra terra, perché tanto male, buttare delle boate di colore sul muro sarebbe comunque colorato. Allora c'è chi dice, no, hanno inguacchiato un muro, non si capisce che è un fatto intenzionale. E serve a testimoniare anche a chi viene da fuori che nel quartiere c'è qualcosa di vivo, perché non è che qua... spesso su giornale gli stessi abitanti del quartiere protestano perché le notizie che vengono dalla periferia sono soltanto le notizie di ammazzamenti, di spari, di arresti di camorristi, eccetera. E pare che tutti quanti siano camorristi, che qua sia il far west, in effetti è un buon tipo di far west, sia per il calore, ogni tanto... Però non è che si spari tutti i giorni o a tutte le ore, ci sono solo delle ore debutate. Nel resto del tempo si vive normalmente, cioè ci sta una maggioranza, una stragrande maggioranza delle persone che abitano qua che sono vittime di questi quattro, perché poi l'emergenza delle male persone, della mala razza delle cose è più evidente che non la normalità delle persone, diciamo per bene, comuni normali. Dalla nascita di Gridas, già abbiamo parlato prima, cioè da questa assemblea centro sociale alla fine dell'anno scolastico del 1981, giugno, e poi si è prolungato nell'estate dell'81 e poi negli anni successivi. Diceva Don Milani che politica è la vita dell'uomo, non ha senso ciò che non è politico. Nel senso che politico è il tentativo di costruire insieme la soluzione ai problemi comuni. Risolvi da solo è fascismo o è egoismo, che è la stessa cosa. In questo senso politico si è sviluppato cercando di mettere a frutto le esperienze dell'attività artistica a servizio di un discorso di coscientizzazione. Abbiamo visto per esempio, la televisione dice bugie, perché sta in mano a poche persone che omologano il consenso di tutti. Allora facciamo noi la televisione che dice quello che noi vogliamo far sapere. Allora si inventa un televisore di compensato largo, extralarge, un metro e venti di larghezza con dentro un rotolo di tela dipinta a quadri che si illustra per la strada. Allora diventa immediatamente un esempio di teatro di strada, per cui richiamo l'attenzione della gente e gli si fa dire quello che si vuole dire, che non è la stessa cosa che un volantino verboso, scritto fitto fitto che nessuno si legge, si prende per buona cortesia da chi lo distribuisce e poi si butta. Ma invece è al posto del volantino il fumetto, che già è più accattivante, si sapevano delle belle immagini, nell'87 quando si fece il referendum contro le centrali nucleari, tra gli altri. Facemmo, grazie a Franco Nacella, stampammo in 10.000 copie un fumetto contro le centrali nucleari, Atomo perché e per chi. Questa è educazione artistica, cioè educazione a vedere, a guardare con gli occhi propri e non con quelli della televisione, per cui uno dei simboli che ricordo spesso dei nostri murali è l'albero della conoscenza, un albero da cui crescono mani, piedi, occhi, orecchie, le orecchie per ascoltare i suoni altri, diversi da quelli a cui siamo abituati, gli occhi per vedere con i propri occhi e non con quelli della televisione, omologati e scelti già a priori, le mani per fare, gli occhi, le mani, gli orecchie, i piedi per andare a vedere di persona, perché non è che uno si fa raccontare, va a vedere come stanno le cose. Le maschere dove abbiamo cominciato? La prima iniziativa fu gonfiare dei paloncini e ingollarci la carta con la colla attorno, però venivano delle teste d'uovo che insomma potevano essere simpatiche. Poi quel tempo abbiamo conosciuto l'esperienza di Piero Gilardi, uno scultore di poliuretano espanso, più comunemente conosciuto come gomma piuma, e abbiamo imparato a fare le maschere di gomma piuma. Anni fa venne da Napoli il Comedianz, un gruppo di mimmi e di teatranti di Barcellona, impariamo da loro, copiamo, la costruzione di queste maschere costruite su tresfoli che si montano sulle spalle, per cui si raddoppia l'altezza della figura, per la strada è importante essere visibili, per cui una figura alta il doppio di una persona normale, è articolata con delle braccia regate con gli spaghi e poi rivestita dei vestiti che a stoffa cattama a resina, nel mercato delle pezze vecchie, le nostre maschere di carta pesta sono fatte sulla base delle cose che mi insegnò anni fa Renato Carpendieri e c'è l'armatura di filo di ferro su cui si incolla la carta di giornale con la colla, poi si pitta e si possono indossare, si possono costruire su strutture da portare in giro. Nell'83 cominciamo questa itineraria del carnevale, perché il problema era sempre quello di organizzare dei laboratori, cioè non andare a scuola solo con la testa, ma anche con il resto del corpo, cioè le mani per fabbricare delle cose. Scoprimmo, grazie alla nostra rappresentanza dei genitori, la componente dei genitori del Consiglio di Circo, dell'Istituto della Scuola Elementare, che a carnevale si fittava la palestra delle iniziative private per fare il concorso La Più Bella Mascherina, cioè la Genesa accattava i vestiti da 1800, Zorro, che sa c'è, e facevano la sfilata e poi si premevano qualcuno. Dice, cazzo, il carnevale è stata una cosa popolare, di rivoluzione, più non ha niente a che vedere con il recupero delle tradizioni borghese del carnevale, tipo quello di Venezia, né con la grande spanciata anche di cose pseudo-critica sociale, tipo il carnevale di Viareggio.